Le video notizie di distribuzione moderna E' stato inaugurato giovedì 27 gennaio il nuovo punto vendita a Insegna Il Gigante situato a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Si tratta del sessantesimo store del brand Lombardo, la cui apertura cade nel cinquantesimo anniversario di attività sul territorio. La struttura è stata realizzata nel rispetto degli standard di efficienza energetica che riducono notevolmente l'impatto ambientale. L'assortimento prevede una vasta offerta di prodotti freschi, il reparto pasticceria e forno e la macelleria, senza contare numerose proposte biologiche e free from. L'insegna ha implementato il servizio di spesa online e nel punto vendita è disponibile la corsia Drive, il punto di ritiro della spesa effettuata via web. Un punto vendita inserito in una realtà molto importante dove esiste anche altra grande distribuzione, ma sicuramente noi siamo sicuri di quello che stiamo facendo, proponendo un punto vendita moderno con proposte di prodotti di ogni genere e anche rivolti ad una clientela giovane. abbiamo all'ingresso inserito i nostri pollo campero e a modo mio, quindi abbiamo anche un'area ristoro e offriremo alla popolazione anche un servizio medico che secondo noi può completare il servizio. Altra cosa molto importante è che proprio per venire contro le nuove esigenze abbiamo il servizio Drive del ritiro della spesa online. Abbiamo aperto anche la possibilità della consegna sul territorio, quindi noi faremo le consegne a domicilio e attualmente tra l'altro per raggiungimento di 100 euro di spesa la consegna è gratuita. Noi facciamo parte della piattaforma Così Comodo e siamo parte, però il nostro sito si aggancia alla piattaforma e-commerce del gruppo Selex, ma è ovviamente gestito poi autonomamente da noi. Abbiamo un corner di sushi preparato tutti i giorni da specialisti del settore e quindi anche questo va incontro alle esigenze sia di una target di famiglie o di clienti più giovani ma anche al lavoratore che magari a mezzogiorno è sufficiente, trova un prodotto già pronto da consumare oltre ripeto ai nostri prodotti nell'area ristoro all'ingresso. Oltre a questo abbiamo tutti le vaschette di nostre preparazioni sia a monoporzione che per porzioni più ampie. La nostra ricetta è quella di offrire il servizio e la qualità e ovviamente stringendo, dando sempre importanza anche ai prezzi. Noi abbiamo la linea dei prodotti a marchio gigante sono più di mille a prezzi bloccati e questo può venire incontro alle esigenze anche della clientela che è più attenta al prezzo. Però sono i nostri prodotti a marchio, quindi non solo hanno prezzi bloccati ma hanno, sono scelti con grande attenzione dai nostri specialisti e selezionando le aziende migliori che possono produrre per noi. E poi l'area dei freschi, il gigante sull'area dei freschi non teme confronti.